Giovanotti C'era ben il macellaio con la bionda norvegese, c'era Gianni il farmacista con la mora di Parigi. Giovanotti, che pensate, è un capriccio dell'estate, da Terretta all'Urssolina, romagnola di qua giù. Ci sono bionde, rosse, more, alte, magre, assai vogliose, ci saranno anche un altro anno, ma non certo quell'era. Ma che senso ha scrivere tamo se non tornerà? Ma che senso ha battere in testa se poi finirà? Scrivere tamo se non tornerà? Battere in testa se poi finirà? Caro Benny, non sognare, dammi retta, lascia stare, quella notte in riva al mare, è un ricordo e niente più. E tu Gianni cosa ridi? Puoi scordarti quei sorrisi, pensa invece alla Luisa che ti aspetta su in città. Ma che senso ha scrivere tamo se non tornerà? Ma che senso ha battere in testa se poi finirà? Scrivere tamo se non tornerà? Scrivere tamo se non tornerà? Battere in testa se poi finirà? Ma che senso ha scrivere tamo se non tornerà? Grazie a tutti.